Ciao ragazzi, in questo video vi vorrei parlare di due avverbi di luogo molto utilizzati in italiano che sono qui e qua indicano entrambi un luogo vicino alla persona che sta parlando quindi se immaginiamo la conversazione tra due interlocutori dobbiamo sapere che quando uno di questi utilizza qui o qua significa che si sta riferendo a un luogo vicino a lui quindi un luogo vicino a chi parla tra i due interlocutori questi due avverbi di luogo sono più o meno equivalenti come significato tuttavia esiste una piccola sfumatura di differenza una lieve differenza che è questa qua ha un valore generico mentre qui ha un valore un po' più puntuale, più specifico, più preciso esempio i turisti vengono qua per ammirare il Duomo i turisti vengono qua qua in questo esempio è inteso come località quindi per esempio vengono in questa città per ammirare il Duomo che è molto famoso immaginiamo, che so, Firenze per esempio se invece diciamo da qui c'è una bellissima vista del Duomo in questo caso non sto intendendo qui come località ma qui come punto preciso da cui posso ammirare una bellissima vista del Duomo quindi basta che ricordiate qua, senso generico, località qui, punto più preciso più specifico spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo